Manca una settimana al pagamento del saldo di Tasi e Imu, le imposte sulle proprietà immobiliari che rendono ogni anno allo Stato circa 22 miliardi di euro. Non parliamo di prime case, a meno che non si tratti di rare eccezioni quali dimore signorili, ville, castelli e palazzi storici, ad essere coinvolte, quindi abitazioni diverse dalla prima. La Tasi, un'imposta che ha come presupposto, oltre alla proprietà, anche la semplice detenzione di un'abitazione, non è però dovuta dagli inquilini o comodatari che risiedono anagraficamente e dimorano nell'immobile in questione. Chi invece ha la propria abitazione altrove, paga nella visura stabilita dal comune, compresa tra il 10 e il 30% dell'imposta complessivamente dovuta dai proprietari della casa. La scadenza per proprietari e inquilini, per Imu e Tasi è il 16 dicembre, quindi venerdì prossimo. Buone notizie invece per gli oltre 2.400 italiani che hanno già ricevuto un sms da parte dell'Agenzia delle Entrate che gli avvisa di verificare l'accredito di un rimborso fiscale. Si tratta solo di una parte dei 400.000 cittadini che hanno finora fornito il numero del proprio telefonino nell'area riservata dei servizi online dell'Agenzia delle Entrate. Per loro, d'ora in avanti, sarà più semplice ricordare le scadenze, stare al passo con i pagamenti e tenere sotto controllo l'arrivo di un rimborso, grazie ad un sms personalizzato, inviato in tempo utile che permetterà di evitare errori e dimenticanze.